In questo espresso 2016 siamo con Marco Tesconi della Spaziale, un nome che non passa inosservato. Buongiorno, sì in effetti il nome La Spaziale non tutti sanno che deriva da 1969, l'anno in cui c'è stato l'atterraggio sulla Luna e il nome La Spaziale inizialmente era il nome di un modello di una macchina e dopodiché è diventato poi il nome vero e proprio dell'azienda. Un nome molto forte che dobbiamo riuscire a tenere sempre in alto. Qui a Trieste Espresso avete presentato molti prodotti ma in particolare ci vuoi parlare di qualche cosa? Sì, a noi preme molto focalizzarci sulla nuova macchina, l'ultima nata l'S15. È una macchina compatibile perché può essere utilizzata con i più diffusi sistemi porzionati sul mercato, compatta, se riusciamo anche a vederla qui alle nostre spalle. È una macchina che è studiata per esaudire tutte le esigenze del cliente ORECA. È una top del mondo porzionato e ci piace ribadire che è una macchina ad uso professionale. La presenza della spaziale nei mercati mondiali delle macchine? La spaziale è presente in quasi tutto il mondo. Abbiamo dei mercati dove siamo più forti, quindi i nostri mercati principali che sono l'Europa, i Cugini d'Oltralpe, la Spagna e comunque gli Stati Uniti, il Brasile, la Romania. In Brasile e in Romania abbiamo anche due filiali, oltre alla sede di Bologna e una seconda sede produttiva a Jesolo. Quindi un viaggio nello spazio del caffè e direi buona fiera a tutti. Grazie e buon proseguimento. Grazie.